È definita la Kermess culturale più importante d'Abruzzo, un appuntamento che per sette giorni popola il centro storico di Chieti, con grandi appuntamenti musicali e culturali. Si tratta della settimana mozzartiana che giunge alla sua quindicesima edizione, manifestazione organizzata con la collaborazione dell'istituzione deputazione teatrale Teatro Marrucino, musica sinfonica, jazz, musica da camera, performance, galà di lirica. La voglia di rendere la nostra città, il nostro Abruzzo, ma la nostra città la sede della capitale culturale del medio adriatico. Questo è un evento non solo di Chieti, è un evento dell'Abruzzo e noi su questo vogliamo puntare. Grandi interpreti a Chieti, il solista degli Spandau Ballet, Tony Adley, Ramin Barami, Michele Di Toro, dieci salottini che caratterizzeranno il centro città per soddisfare ogni gusto. Il tutto con un budget di 300.000 euro inferiore a quelli registrati negli anni precedenti, questo il traguardo dell'amministrazione comunale. È la scommessa che noi abbiamo fatto, quella di continuare a regalare qualità, grande qualità culturale, grande qualità artistica attraverso la settimana mozzartiana. Questo è stato possibile coinvolgendo le persone che la organizzano, tanti volontari. Una grandissima competenza, quella del maestro Pellegrino che gratuitamente organizza la settimana mozzartiana sotto il profilo artistico e soprattutto la grande rete di relazioni che lui ha che ci consente di chiamare a Chieti non perché sotto contratto ma perché vi è la voglia di partecipare alla settimana mozzartiana artisti di livello internazionale. Infine un piano trasporti pensato per garantire a tutto il pubblico la facilità di arrivare in centro grazie all'istituzione di tanti diversi mezzi messi a disposizione dal comune. Abbiamo cercato di rendere la città accessibile il più possibile, quindi occupando tutto il centro storico con i salotti chiaramente arrivare in città diventava difficile. Allora bus navetta come tutti gli anni dal Paratricalle ma anche bus dal centro commerciale Centauro e tariffe agevolate per i taxi. Quindi chiunque vorrà non potrà dire che non può arrivare a Chieti perché ci sarà spazio e modo per arrivare in città e godere della settimana mozzartiana.